Benvenute e benvenuti questa sera alla nostra puntata di Tareologia. Oggi, come sempre, sono Soria Valerio Verea e vi do il benvenuto qua, su Anima della Terra. Quante volte abbiamo pensato nella nostra vita, guardando al passato, se avessi fatto una scelta diversa? Guardare al passato, vedere gli errori che abbiamo fatto, proprio quegli errori su cui non possiamo andare a farci più nulla, e altro non possiamo fare che rimanere con le conseguenze di quegli errori, guardarli e pensare come sarebbe stata diversa la mia vita se avessi fatto qualcosa d'altro, qualche altra scelta, se avessi preso un'altra strada rispetto a quella che ho preso. Ma, ahimè, altro non ci resta che stare con le conseguenze di quelle scelte. E magari le conseguenze di quelle scelte non ci piacciono, magari quello che abbiamo fatto sono stati degli errori che ci hanno portato a chiudere relazioni dolorose, che ci hanno magari messo in situazioni difficili, ci hanno fatto affrontare situazioni di difficoltà, di stress, ci hanno fatto perdere magari tante risorse, ci hanno fatto perdere soldi, ci hanno fatto perdere possibilità nella nostra vita. magari hanno causato dei danni al nostro corpo che, ahimè, si può mettere a posto, ma alcune conseguenze non possono essere portate indietro a come era prima. Tutto questo, insomma, genera un grande peso, diciamoci la verità. Può essere molto, molto, molto pesante. Quello che vedo quando lavoro con le persone, sia quando facciamo i corsi di tarologia con le persone, che ovviamente in un corso di tarologia si mettono in gioco e vanno a tirare fuori quello che c'è dentro per andare a trasformare, per portare consapevolezza, guarigione, trasformazione, sia quando facciamo i coaching di tarologia, i tarologici trasformativi. Un punto che salta sempre fuori, molto, molto, molto comune, è quello di andare a vedere il passato e dire, sentire questo rimpianto, sentire questo dolore per quello che non è stato fatto come oggi, con la consapevolezza di oggi, faremmo. C'è questo vecchio detto che mi dicevano sempre in famiglia del senno di poi sono piene le fosse, no? Certo, perché ovviamente è una conoscenza comune, no? Il fatto di guardarsi indietro, sai, sapendo quali sono le conseguenze di quello che abbiamo fatto, è facile, no? Guardarsi indietro e dire, beh, avrei fatto qualcosa di diverso. Ma nonostante questo, continuiamo a guardare indietro, continuiamo a mettere energia in quella direzione, continuiamo a mettere energia al passato. e questo è un problema perché tutta questa energia che noi mettiamo al passato è energia che via 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 ci viene tolta al presente. E qua c'è un punto in più importante a cui fare attenzione. Spesso questa energia sul passato non è neanche basata su qualcosa di concreto. Molto spesso è, eh sì, se avessi preso l'altra decisione sarebbe stato meglio, ma in realtà non sappiamo, nemmeno con certezza, perché ovviamente non avendola presa, quella decisione non possiamo certo sapere come sarebbe andata a finire. Ma nonostante questo, nonostante questo, andiamo a caricare e a mandare via la nostra energia. Questo ci fa subito capire una cosa. Se viviamo questa esperienza, vuol dire che lì c'è un nodo, c'è un blocco, c'è un tema da risolvere. È un tema molto comune. È un tema comune perché è una modalità da un certo punto di vista che ci viene insegnata, che fa parte della nostra nevrosi collettiva, è una di quelle nevrosi collettive che sono diventate la normalità, ma non è normale, deriva da una specifica ferita che andremo a vedere. Ma prima di arrivare qua dobbiamo fare un piccolo escursus e dobbiamo capire tutta questa modalità, questo modo di vedere la nostra vita osservando al passato, che di fatto è quello che noi troviamo con la carta dell'eremita ombra. Quando mi giro, quando questa figura che ci rappresenta il saggio, ci rappresenta Saturno, ci rappresenta questa figura di consapevolezza, si guarda indietro e anziché guardare indietro e dire ok, imparo, ho imparato, imparo dalle mie esperienze, guarda e dice lì ho sbagliato, là ho sbagliato, là ho sbagliato. Questo ci genera questo senso di autocritica che poi è alla base del rimpianto e alla base di questa emozione dolorosa che succhia tantissima energia e rallenta il nostro percorso di crescita e di consapevolezza. Se andiamo dentro a questa modalità, iniziamo a focalizzare due componenti importanti. La prima componente è che valuto che non si possano commettere errori, nel senso che considero il fatto di commettere un errore un qualcosa di intrinsecamente sbagliato. Qua, perché pensiamo questo? Basta tornare al nostro primo giorno di scuola quando ogni volta che facevamo un errore ci tiravano una bella riga e mi ricordo la mia maestra che c'era e faceva, prendeva la penna rossa il mio quadernino che a me piaceva tanto il mio quadernino, questa maestra, la Elda Malovini Pigazzi, questa anziana maestra vestita di nero che aveva ancora negli anni Ottanta aveva ancora la bacchetta di bambù che ci dava sulla testa e questa maestra prendeva questa penna rossa girava c'è un bel circolone rosso dove avevamo fatto l'errore con scritto sbagliato e sottolineato tre volte, no? e chiaramente questo con quest'aria senera ovviamente mi metteva moltissimo moltissimo in soggezione quindi è da lì l'informazione che sbagliare è un qualcosa che non si può fare è un qualcosa che non va bene ed è un qualcosa da evitare assolutamente ci viene proprio inserita dentro a martellate quindi ce l'abbiamo tutti ma non è solo questo perché oltre all'idea che sbagliare non vada bene c'è anche un'altra idea che è vicina a questa ma che è quella che ci dice che se io sbaglio sono una cattiva persona che si lega a questo ovviamente ma non è esattamente la stessa cosa sbagliare è un qualcosa che non si dovrebbe fare quindi è possibile l'idea che sia possibile fare tutto giusto pertanto sbagliare è un'eccezione da evitare assolutamente dall'altro lato oltre al fatto che non lo dovrei fare se lo faccio il mio valore come persona diminuisce pertanto io infatti quando cosa succede anche recentemente ci lavoravo con una persona che diceva beh io sì guarda che cosa che ho fatto tutti gli errori che ho fatto con il mio marito con i figli con la mia famiglia quante cose ho fatto che persona terribile che sono che persona che non vale niente è chiaro capite la connessione cioè io faccio l'errore che non dovrei fare e il fatto di aver fatto l'errore fa sì che io percepisca me come una persona che non vale come una persona che non ha valore che è sbagliata che non ha diritto di esistere e non ha un altro grande diritto appena ve lo dirò capirete immediatamente da dove arriva tutta questa emozione questa dinamica quindi dentro a rimpiangere dentro a questa modalità di guardare al passato e dire oddio che cosa ho fatto abbiamo una componente dell'errore l'errore che non si dovrebbe fare che ci hanno insegnato così e la componente del se io faccio un errore sbaglio la componente dell'errore questa è un la chiamerei un falso storico l'idea stessa che non si dovrebbe fare l'errore è un qualcosa di intrinsecamente sbagliato perché non si può fare non si può non fare errori non si può fare tutto giusto non è possibile nessuna persona al mondo nella sua vita ha fatto tutto giusto nessuno nessuno non è possibile l'essere umano fa errori e perché fa errori ma perché non è che il divino che ha creato l'essere umano che fa errore si sia sbagliato il divino no lui non si sbaglia il Tao ha un senso ma perché faccio l'errore perché dall'errore imparo come dice Jodorowsky nella vita puoi fare tutti gli errori se fatti in buona fede con la voglia di imparare e impari da questi errori se io faccio un qualcosa cercando di fare una cosa positiva sbaglio e da questo errore sbaglio qualunque cosa io abbia fatto va bene va bene non c'è nulla di male in questo perché perché la coscienza che arriva perché mi porta a fare l'errore perché mi porta a cadere nell'errore perché attraverso la caduta io posso guardare prendere consapevolezza trasformare e guarire elevare la mia coscienza e se noi non facessimo errore se facessimo tutto perfetto vorrebbe dire che siamo già degli dei che siamo già perfetti e non ci servirebbe fare l'esperienza sulla terra perché l'esperienza sulla terra è un'esperienza che noi veniamo a fare per imparare delle cose la nostra anima arriva qua perché ha bisogno di fare un'esperienza di coscienza ha bisogno di provare delle cose e provando delle cose sviluppa coscienza sviluppa consapevolezza si mette in una dinamica nella quale sbagliando impara e va avanti questo è fondamentale capirlo e non solo capirlo ma farlo entrare dentro di noi far entrare dentro di noi che sbagliare è normale e anche se ci facevano la rigona rossa sul quaderno se ci dicevano che non andava bene che quando sbagliavamo in realtà era una finzione quello che bisognerebbe insegnare ai bambini e dire ok guarda qua questa cosa non è corretta in questo modo come puoi imparare cosa impari da questa esperienza il fatto di essere caduto il fatto di aver fatto il calcolo sbagliato il fatto di aver scritto in maniera diversa cosa ti dà quale spinta quale informazione ti dà per acquisire l'informazione e la libertà di fare le cose che poi peraltro il concetto di sbagliato è l'uscire dagli schemi perché di fatto lì dietro c'è un'idea che ci dice tu devi stare dentro questo schema tu devi stare dentro questa scatola e se tu esci dalla scatola non vai bene chiaramente noi dovremmo dire no tu vai e fai tutto quello che vuoi si libero si libera di fare quello che vuoi l'unica cosa a cui fare attenzione è che la tua libertà non vada a danneggiare qualcun altro ma nel momento in cui la tua libertà non fa male a nessuno fai quello che vuoi non c'è nessuna scatola all'interno della quale stare se non c'è una scatola non c'è nemmeno l'errore ma capiamo che una società che tende a inscatolarci per avere il controllo tende a sottolineare questa dinamica il fatto di trascendere l'idea stessa dell'errore vuol dire trascendere proprio espandere la nostra visione che poi è una visione che ci arriva anche dalla religione l'idea stessa di peccato questo fatto che se tu sbagli verrai punito io mi ricordo quando ho avuto la malaugurata esperienza del catechismo l'idea stessa che se io facevo una cosa che violava i comandamenti poi immaginatevi un bambino cosa mai avrà potuto fare l'idea di poter fare un qualcosa che poi venivi punito per l'eternità quindi non è neanche che ti davano che ne so il castigo poi dopo uscivi no no puniti per l'eternità immaginiamo già il concetto ma chiaramente sono tutte strutture cognitive che sono servite da organizzazioni sociali per mantenere il controllo e far sì che una grande massa di persone venisse asservita a determinate idee determinati comportamenti determinati punti di vista in una visione di evoluzione chiaramente trascendiamo questo trascendiamo quindi l'idea stessa dell'errore l'errore è un qualcosa che serve per apprendere in una visione evolutiva l'errore serve alla nostra anima per guardarsi dentro faccio un errore e a questo errore capisco faccio in modo che da qui porto trasformazione come se ho fatto l'errore magari di tradire una persona di fare del male a qualcuno di commettere un qualcosa di ingiusto lo vedo me ne rendo conto chiedo scusa pago rimborso e ovviamente quando faccio un errore devo rimborsare quello che quello che ho danneggiato perché devo fare tutto il possibile per compensare l'errore in modo tale da ristabilire l'equilibrio e una volta che ho ristabilito l'equilibrio arriva la guarigione dell'errore quindi si va avanti cambiamo quindi prospettiva sull'errore ma se io cambio prospettiva sull'errore uno vi dice sì ok io posso anche arrivarci posso comprendere che l'errore non c'è nulla di male che l'errore fa parte del percorso di crescita che gli errori che ho fatto nella mia vita li ho fatti perché facevano parte del mio Tao facevano parte dell'esperienza della mia anima e mi sono serviti a crescere ma anche se l'ho capito io continuo a stare nel dolore continuo a stare nella ripetizione e continuo a stare in questa situazione assolutamente sgradevole di rimpianto di risucchio di energia qua arriviamo al punto numero due che citavamo prima il fatto che dentro di noi ci sia stata l'informazione che se noi facciamo un errore siamo persone peggiori e soprattutto siamo persone che non hanno il diritto di essere amate qua capiamo immediatamente dove andiamo a parare perché quando il nostro giudice interiore quindi il nostro eremita interiorizzato il nostro saturno interiorizzato il nostro saggio ombra che con questo sguardo severo ci dice non vai bene quello è chi dentro di noi o meglio nella nostra infanzia ci ha fatto fare questa esperienza e a me questa è un'esperienza comune è un'esperienza comune quando i nostri genitori sono stati molto severi quindi da un lato quando ho avuto dei genitori rigidi che mi dicevano che dovevo fare le cose che mi mettevano sempre delle performance da raggiungere delle punizioni se io non raggiungevo quelli che erano gli obiettivi che loro che loro ponevano e anche questo è meno visibile ma forse ancora più forte quando ho avuto dei genitori che mi hanno manipolato e cos'è la manipolazione da questo punto di vista la manipolazione da questo punto di vista è quando il genitore cambia la quantità di amore che dà il figlio in base a quello che il figlio fa se ci pensiamo bene questa è una cosa comunissima già da bambini quando il bambino ci sorride allora noi gli stiamo più vicino se invece il bambino piange allora noi siamo se il bambino fa quello che noi vogliamo chi gratifica allora noi gli diamo più attenzione più amore più cura gli dimostriamo affetto se il bambino invece fa una cosa che a noi non gratifica allora se c'è questa che non vuol dire quando il bambino magari fa un qualcosa che non è corretto che noi lo correggiamo questo è assolutamente assolutamente corretto va benissimo ma quando quando usiamo il bambino per gratificarci e qua è una cosa che non si nota ma è molto comune quante volte si chiede ai bambini di fare delle cose per il piacere degli adulti ecco se il bambino vive questa esperienza e questa esperienza diventa comune e soprattutto diventa comune nella modalità in cui i genitori si relazionano col bambino se questo diventa la modalità con cui la mamma e il papà si relazionano col bambino dicendogli sempre fai questo e se fa questo allora ti gratifica e se non lo fai no questo va a instillare nel figlio la dinamica della dell'amore condizionato e l'amore condizionato vuol dire che se io non corrispondo allo standard se io non arrivo a fare quello che dovrei fare io non ho diritto di essere amato quindi non valgo non ho il diritto di esistere mentre parliamo di livelli profondi di manipolazione e quando siamo qui io posso interiorizzare questo e se io vado se mi è mancato l'amore se io l'amore era condizionale se la mia performance non è stata sufficiente per ottenere amore a quel punto ogni volta che io crescendo ho commesso degli errori andrò ad accusare me di aver sbagliato e per cui tutti i problemi della mia vita diventeranno causa mia non saranno più un viaggio nel quale andiamo nel quale io ho la mia responsabilità ma la vita che mi porta a fare questo viaggio qualcosa di più grande mi accompagna in questo viaggio e il mio dovere è quello di imparare di fare tutti i passi per evolvere e il valore mio e quanto sono cambiato quanto sono cambiata non quello che ho fatto paradossalmente una persona che ha fatto delle cose terribili ma che poi dopo è riuscita a comprendere questo e diventare una persona che fa delle cose belle ha fatto un grande percorso molto più grande di una persona che è partita in un ambiente molto sereno ha iniziato a fare cose belle e ha continuato a fare cose belle tutta la vita la differenza al percorso di evoluzione è molto diverso e a volte la vita ci porta anche percorsi di evoluzione difficili le persone a me capita spesso di lavorare con persone che hanno sofferto molto nella loro vita nella loro infanzia anche nell'età adulta quando questo succede è perché l'universo ci sta chiedendo di fare un grande lavoro di andare a integrare tanto dentro di noi e non importa se sbagliamo è l'integrazione e l'evoluzione che conta e per farlo devo quindi andare a ricontattare come faccio a superare questo come faccio a superare questo disagio interiore devo andare a ricontattare quell'esperienza devo andare a rendermi conto di tutte le volte di tutte le esperienze di amore condizionale che io ho vissuto e se io ho vissuto tutte queste esperienze se ho vissuto rigidezza se è verità se mi è mancato amore se non sono riuscito riuscita ad ottenere tutto l'amore di cui avevo bisogno perché mia performance non era adeguata agli standard dei miei genitori lì devo andare a lavorare e devo andare a riprogrammare queste informazioni rendendomi conto che in realtà il valore mio è un valore intrinseco il mio valore c'è in quanto esiste ognuno di noi ha il diritto di esistere ognuno di noi ha il diritto a essere amato a essere amata ognuno di noi ha il diritto di manifestarsi nella maniera più naturale più autentica e non importa quello che vogliono gli altri e non importa e non importa nemmeno il grande lavoro dei tarocchi proprio quello di passare dall'esperienza che noi abbiamo avuto con i nostri genitori quindi l'esperienza materiale imperatrice imperatore a quella che è poi la connessione profonda con quello che c'era dietro e il grande amore e la grande armonia che noi troviamo quella che arriva poi con la carta del giudizio cioè l'integrazione di quello che era dietro al di là dei nostri genitori grazie al lavoro fatto e dobbiamo pertanto andare a lavorare su questo andare a lavorare su riconnetterci che anche se la nostra esperienza è stata quella di un amore condizionale che non valevamo se non facevamo performance se non facevamo determinate cose non importa la cosa importante è che noi ci sentiamo e possiamo andare a ricollegarci dietro come bypassare andare oltre quella che è stata la nostra esperienza per ricollegarci questo diritto fondamentale all'esistenza questo diritto fondamentale e naturale all'amore quando facciamo questo automaticamente il nostro giudice interiore inizia a rilassarsi il nostro saturnone interiore inizia a rilassarsi usciamo dalle dinamiche quindi di ripetizione come quelle che ci mostra la ruota quindi le dinamiche di ripetizione che ci portano sempre a vivere e rivivere dentro di noi il vissuto e iniziamo a dire ok ok qualunque cosa sia successa va bene così quello è stato il mio cammino avrei potuto iniziare a lavorare su di me prima in realtà no in uno di noi inizia a lavorare nel momento giusto nel momento in cui è pronto è pronta sono commessi degli errori avrei dovuto fare qualcosa di diverso no perché quello che è stato era quello che c'era bisogno di fare era la lezione da imparare e l'esperienza di essere giudicati di essere abbandonati quando noi non corrispondiamo a certi standard possiamo lasciare andare a riconoscere che gli standard che noi diamo che noi mettiamo dentro di noi sono quelli che ci portano all'armonia ci portano all'espansione un profondo lavoro quindi di riconnessione di bypassare bypassare l'esperienza dolorosa per incontrare l'autenticità per incontrare il nostro diritto naturale alla vita all'esistenza e all'amore molto bello in questo il lavoro sul bambino interiore andare a lavorare col bambino andare a incontrarlo no questa è una cosa che facciamo anche nei primi livelli di reiki perché è proprio un punto fondamentale da andare a lavorare molto bene è un lavoro che facciamo ovviamente nei corsi nei corsi di tarologia nei percorsi di formazione perché serve serve tantissimo andare a fare pace con tutto questo ricordati sempre che vai bene così come sei non c'è nulla nulla che devi fare di diverso perché il divino ti ami perché dentro di te c'è già tutto come ci dice l'appeso in realtà dentro di noi c'è già tutto dentro di noi l'illuminazione la perfezione è già presente se noi vediamo l'appeso c'è il mondo la cosa fondamentale è accettare questo e dico ok magari in questo momento devo affrontare dei momenti difficili ho affrontato dei momenti difficili bene siamo sopravvissuti siamo qui è il fatto stesso di essere qui di essere al lavoro di essere in un percorso di crescita di aver scelto di aver deciso di andare avanti di metterci in discussione di abbracciare la saggezza la profondità la consapevolezza tutto questo già di per sé fatti una pacca sulla spalla perché è un grandissimo grandissimo successo quante volte quante volte avresti davvero potuto prendere una strada davvero sbagliata quante volte avresti davvero potuto perderti pensaci pensa che invece sei qui e pensa che invece sei riuscito sei riuscito ad arrivare fin qui e ad essere in un cammino di consapevolezza per prendere tutto quello che è stato e trasformarlo prendere il piombo e trasformarlo in oro prendere il dolore e trasformarlo in consapevolezza prendere la solitudine l'abbandono e trasformarlo in amore questo è il più grande successo questa è la magia questa è l'alchimia quando siamo in questo viaggio quando vediamo i tarocchi quando vediamo questi archetipi queste metafore che ci arrivano per ricordarci tutto questo siamo proprio a ricordarci del viaggio che facciamo questo viaggio è complesso questo viaggio è difficile ma è il viaggio che ci serve per tornare alla grande madre alla grande armonia per tornare al tutto con la consapevolezza di ciò che noi siamo la nostra verità e la nostra autenticità il viaggio si inconcluderà l'ultimo giorno e nel mezzo ci saranno tutte le lezioni che andremo ad apprendere che serviranno proprio per costruire mattone dopo mattone la consapevolezza per arrivare in quel giorno con tutto con l'apertura la coscienza perfetta per fare l'ultima grande esperienza della vita grazie per essere qua spero che questo viaggio ti sia utile questa esplorazione ti sia utile lasciami nei commenti com'è la tua esperienza com'è stata se ti risuona questo tema metti un like al video se ti è utile mi aiuta molto a farlo vedere a più persone questo è tutto lavoro divulgativo che faccio proprio per condividere il più possibile questi contenuti quindi aiutami anche tu a farli conoscere grazie mille per seguire Anima della Terra qua c'è l'email se hai piacere o anche sotto nei link se hai piacere di approfondire il lavoro che faccio e che facciamo con l'Accademia ti ringrazio sempre per stare con noi ci vediamo domani domani venerdì parleremo di tema di amore tema di relazione e intanto ti auguro una bellissima serata e a presto a presto Grazie per la visione!